Abbiamo appena firmato i 21 contratti istituzionali di sviluppo con tutte le regioni del nostro Paese. Costruiamo così una nuova sanità. 1.350 case di comunità aperte fino a 24 ore al giorno, 400 ospedali di comunità. E la strada giusta per investire di più sul nostro servizio sanitario nazionale è renderlo sempre più prossimo, più vicino alle esigenze delle persone.